Alla gentaglia benvenuti su questo nuovo video di Troop Tycoon e ogni torta Mi dimentico il fatto di nome Ma un picchietto Ragazzi cominciamo subito vediamo questo dovrebbe essere Il quarto episodio da un po' che non registro Quindi cominciamo con il record game Intanto metto 10 minuti Ok eravamo rasti con Ice Tower e avevate Visto anche di che cosa si tratta Ice Tower ma no Esso si tratta di Easy Tower Ho letto i commenti dei video Che c'è stato Dello spam e sono stati pochi Rispetto a quelli che effettivamente qui ci sono Stiamo arrivando a 100 200 244 Ah brutta sfortuna un fottutissimo Bastardo mi dice Meno 112 iscritti certo che girano sta roba E peggio degli azionisti E sempre mi dispiace Un casino cominciamo con registrati Questo bastardo Giuro morirà male Morirà male Noi siamo sempre in compagnia di Scemo scemo E lui prenderà le sorti Di questo nuovo let's play Di Ice Tower Che arriva dal numero 13 Scemo Rumore 13 E le persone cominciano a guardarlo Che effettivamente è questo Che dovrebbe funzionare in youtube Cioè meno coglioni Oh mio dio Prima o poi mi ammazzeranno di botte 3 e 4 però guadagnalo Ok beh Che c'è successo Ciccio 129 Che siamo tutti bastardi Oh Muoio Adesso è proprio il gioco che porta sfiga Perché Al terzo giuro faccio un Tutti solo guardano Allora abbiamo intanto due commenti Questo video è noioso Demon Dragon Master Grazie Grazie E Muy million Very good like No col punto interrogativo addirittura Tanto vediamo qui Great channel Grazie tu Mi porti soddisfazione Più 13 Poi abbiamo portato 4 dollari In nessun commento Però registriamo movie Basic log A tag Un Un film che ha cambiato La tua intera vita Registriamolo Vediamo Un film che ha cambiato La mia intera vita Vediamo cosa mi verrà in mente Quando monterò il video E Registrerò queste cose a parte E addirittura Al ciccio Certo che Mi deve aver cambiato molto La vita Ma il cazzo Tanto Porca vacca Allora Tre commenti Akneao111 Ci dice You make the best feeds ever Cioè tu hai fatto il miglior video Di sempre Ok XIA Gaming Ci dice Questo video Non fa senso E Ahiri Che cazzo vuol dire Mi piacciono i tuoi Ahiri Ahiri Anche a me Piacciano i miei Ahiri Facciamo Non facciamo niente Andiamo a dormire E vediamo Cosa ci ha portato La fortuna A meno 6 dollari E stiamo ancora in game Quindi A meno 6 dollari Noi facciamo l'ultimo video Di Let's play Ice Tower Come si dice sempre Perché Ce lo possiamo permettere Noi ce lo possiamo permettere Cucciolotto di papà Tutti devono Mamma mia che botte Botta e botte Però nessuno se lo guarda All'ultimo Voglio come pappagallo Quanto mi piacerebbe Un pezzo Non deve stare che sia pappagallo 161 e un commento Congratulazioni tu hai creato Uno dei peggiori video di sempre E ti credo E ti credo Tacci tua Però 10 mi piace C'hai eh Allora Intanto noi scegliamo Il nuovo video di steam Che deve essere gratuito E noi non ci abbiamo Neanche 10 dollari Ehm Floppy board Ice Tower Taglia la stringa Taglia la stringa Giocata per 1 ora e 19 minuti Spero Facciamo Cominciamo a iniziare Questa nuovissima serie Perché io sono un barbone E E da barbone gioco A Toop Tycoon Che Eh si Mi dispiace che sopra Oh Sbatti 3.000 volte Sopra e sotto Ci siano delle lineette nere Che io non posso togliere E non voglio togliere Vediamo un attimo Che cosa potrò fare 6 dollari Mi sai che stiamo a cominciare a guadagnare E 5 commenti I 5 commenti Diccio Te rivedo il video Uno dei peggiori O uno dei migliori Ok ok Dotruone ci dice Più azione Più esplosione C'è stata Love Daisy Questo mo Questo video Non ha senso Demonchan 22 Try Prova a usare Una migliore camera Ciccio Ti ho detto che sono un barbone Porta Calla miseria È già un miracolo Che c'ho Questa Non registrare Non registrare adesso Eh no Ciccio Questa è l'unica cosa Che mi posso permette Perché ho guadagnato 6 dollari E siamo più avanti Ragazzi Io vi devo fare un video Io vi devo fare Parla della precipità Sì Perché De YouTube Che è precipitato Sì perché YouTube Precipita Sai com'è Quando pensano troppo Quelli dell'agenzia E tutti si buttano Dal diecimo piano Vedi che confusione Che confusione Però sta facendo successo A me prima o poi Quanto me toglieranno Io devo guadagnarci Prima che finisca la cosa Tu commenti Questo video non ha senso Ancora io vi picchio Ancora meglio Meglio del mio burro Che sta in frigo Certo che Io come lo spammer Ma Allora intanto Facciamo un'altra volta Perché Ah magari riusciamo A comprarci i soldi Ah A comprarci i soldi Ma che cazzo sto dicendo Oh mio dio Sto Troppo Dormo troppo poco Un dollaro Un commento Avanti 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 Due dollari Due commenti Che cosa vanno A dollari Tre dollari Tre commenti Quattro dollari E quattro commenti E un bel Cattiva fortuna Bad luck Kina Xava Meno 117 Io ti brucio i capelli Bastardo Ok andiamo a leggere i commenti Sergal Il tuo video Fa veramente ridere Mi fa veramente ridere Mi fa Non sta il veramente Mi fa veramente ridere Vabbè sti cazzi Snipe 7316 Ci dice Questo video Potrebbe essere Molto meglio Con dei catti Grazie Ne terrò conto La prossima volta O ci provo Penso La Il peggiore parte Di youtube Di nuovo Jeff Howe E Slum Chop Meglio del burro Mamma mia Porca vacca Quando mi fanno Roter culo Quando fanno così Però Però Zitti tutti Oggi abbiamo Meno 6 dollari Ma quanto cazzo Mi toglie No E se mi ritorniamo A capo Che sono Madonna Tanto vediamo Se noi Ci possiamo Permettere Di meglio Carriera Abbiamo 3 punti A disposizione E le useremo Per fare Un single player No No Che cosa facciamo Ragazzi Perché io Non mi posso Permettere Di fare Scemo Perché cosa Lo faccio Io non mi posso Permettere Non mi posso Permettere Di fare Per ora Gameplay Quindi Di conseguenza Io si Però Facciamo Record Show Cioè Fama Soldi E gran carriera C'è sta C'è sta Tanto io Questa la devo fare Perché poi Mi ripare collegata Quindi tanto vale Punto richiesto 1 Cioè Devo farlo pure Prima Punto richiesto 2 Green screen Cioè A bomba A bomba Proprio Ma che mi sto inventa Zì Che mi sto inventa Quindi Facciamo il primo video Di taglia La stringa Che il 19 Mi piacerebbe Portarlo sul canale Perché cazzo Fa casino De visualizzazioni Mentre manco Il video Dove io cito Le persone E fa così Tante visualizzazioni Scemo Scemo La dura realtà Di uno youtuber 3 3 Allora Epic stuff Non so che cosa Vuol dire Stuff Sarle Mi dispiace The blue septic Wow Peccato che è il blu Primo Oh Non importa Ok E chagras Are you ok No guarda Sto un po' Frastornato Un po' Stanco Perché Tra Rampicato Pulito La barca Troppe cose Troppe cose Si Che ve ne parlerò Nel Che cos'è Tag Record e tag Non ho nuove invidi Prova dopo Altro Niente Sport Niente Ok Vlog Parleremo About Ah abbiamo anche Una gargantù Xala Che cos'è Una nuova linea La nuova Eccitante facebook Perché Hanno messo Quel fiorellino Di viva la mamma E gratitudine Che dopo due giorni Sono scomparsi E facebook Facebook Che mi convini Era così Eccitante Mamma mia Dirò più Come uno De coca Se fate coca Però abbiamo un commento Che dice Questo audio E' terribile Quello che c'è Io ve lo Guarda Registro Registro Un altro Dove parlo Del Ammazza Adesso anche Del gargantù Barrel Addirittura About Vector Glitter Cioè Parliamo Della pizza Parliamo Della pizza Noi parliamo Della gigantesca Pizza Napolitana Napolitana A me Sotto casa Quella napoletana Viene fatta Come La margherita Ma con le alici Il che è buono Buono Gatti guardano alicia Alice guardano i gatti E tutti quanti Sono soddisfatti No Dieci minuti Sono passati Noi finiamo la giornata Allora Abbiamo Enorme spizza Abbiamo un commento Due Oh L'audio quality Hai cana Cana Come sei Credo che questo Stupido Tu sei Tua mamma Tua mamma Ogni Ogni cosa stupida Che dicono È tua mamma Tu Tu Scusate Tua mamma Anche a te Facciamo l'ultima Anzi mamma mia Come me sta andando a male Porca vacca Regà Stiamo a meno Undici dollari Che bisogna fa Per sopravvivere In questo mondo Davvero Che bisogna fa Abbiamo guadagnato Sei dollari Io vorrei Metterci I dollari Vedi Ma Ma Non Possiamo fare Minacoli Eh oh Dove sta il terzo dollaro Ah ebbene Lo so LOL I love you Oh muffin ball Ti adoro Cut Che cos'è Cos'è Carriera Non abbiamo punti Non abbiamo punti Perché avrei fatto Esplosioni In film No Poi come è Uno due tre Oh questo sarebbe carino Può fare più video Insieme Sarebbe veramente carino Ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Se così è stato Lasciate un like Vediamo cosa ne pensate Ditemi tutto E vediamo un attimo Di che cosa trattare La prossima volta Noi ci vediamo Per il prossimo video Bye Bye Ciao Ciao Ciao